Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale. Nel video di oggi parleremo delle transizioni di Filmora, quindi scopriremo quali sono le impostazioni che ci permettono di utilizzarle al meglio, vedremo quali sono le categorie che mette a disposizione Filmora e tanti piccoli trucchetti e segreti, comprese regolazioni che forse alcuni di voi non conoscono. Questo è un video utile sia per chi utilizza Filmora già da tempo e sia, e soprattutto, per chi Filmora lo sta utilizzando per le prime volte in modo da avere la padronanza completa dell'argomento transizioni. Sul cos'è una transizione e quali sono le tipologie di transizione più utilizzate all'interno dei video, beh, per quello ne parliamo in un video sul mio canale che è uscito l'altro ieri, quindi a fine video ve lo metterò nelle schede così potete andarvelo a vedere, dura poco e vi riassumo un po' tutto il succo dell'utilizzo delle transizioni. Quindi non perdiamo tempo, mettete un mi piace sulla fiducia e cominciamo. Molto bene, partiamo dal menu delle transizioni che ormai conosceranno quasi tutti, salvo chi ha iniziato, o sta iniziando adesso, a utilizzare Filmora. Si trova in alto a sinistra nel pannello, che di solito è impostato di default quando apriamo un progetto su file multimediali, dove abbiamo foto e video che abbiamo importato. Clicchiamo su transizioni e sulla sinistra troveremo un elenco, elenco espandibile per ognuna di queste voci. Andiamo a partire dal menu transizione. Qui semplicemente troveremo la raccolta delle transizioni per categoria, quindi vedete che abbiamo le tendenze, qua verranno inseriti tutti quegli effetti di transizione che vengono utilizzati di più dagli utenti, perché sono quelli che Filmora mette in risalto, ma poi avremo tutte le categorie come le dissolvenze, gli zoom, le transizioni da utilizzare per il calcio, o ancora le transizioni relative alle festività, quindi abbiamo San Valentino, Natale e ringraziamenti vari, che invece verranno aggiornati nel tempo. Man mano che passa il tempo, queste risorse verranno incrementate direttamente da Filmora. Poi abbiamo effetti più scenografici, come ad esempio il fumo, e poi anche cose di settore come videogiochi, oppure un'educazione per istruzione, lezioni e quant'altro, soprattutto per i bambini, e branding, che sono le categorie più importanti, poi ovviamente guardatevele tutte. Con queste transizioni qui noi abbiamo diversi comandi, non sono tutte installate direttamente su Filmora, Infatti vedete che compare un simbolo con una freccetta, se passiamo con il mouse su di essa, ci verrà fuori il menu con scritto Clicca per scaricare il contenuto online. Quindi lo scarichiamo, una volta scaricato sarà applicabile alle nostre clip. Per applicarlo possiamo trascinarlo attraverso il click del mouse, il drag and drop e metterlo a cavallo delle due clip, come prefisso, quindi prima della clip successiva, oppure come suffisso, quindi dopo la prima clip, ok? Questa cosa qui è fattibile anche in alto a destra dal menu. Fatto ciò, possiamo anche andare a modificarne le proprietà, ma lo vedremo fra poco. Torniamo un attimo al nostro menu. Qui abbiamo la possibilità di filtrare attraverso il menu di ricerca, qui ho la cronologia di ciò che ho cercato, se per esempio cerchiamo Halloween, troveremo le transizioni relative ad Halloween, o facendo click con il tasto destro, possiamo utilizzare anche l'opzione Trova simili. Questo troverà tutte le transizioni simili, con animazioni simili, che ovviamente non sono uguali, per darci più scelta, perché automaticamente ci verranno suggerite delle animazioni che hanno a che vedere con quella che abbiamo scelto come riferimento. Poi abbiamo l'opzione che ci permette di andare ad aggiungere i preferiti premendo sulla stellina le nostre transizioni. Una volta che la stellina sarà illuminata, troveremo le transizioni all'interno dell'elenco personale, quindi qui in alto a sinistra, sotto a Preferito. E qui avremo appunto tutte le transizioni che noi abbiamo aggiunto alle preferite. E possiamo aggiungere quante vogliamo. Qui abbiamo le transizioni che abbiamo scaricato, appunto, vedete? Download ce n'è 31, perché tutte queste le ho scaricate, non c'erano ancora. E poi abbiamo i pacchetti di materiali. Ok? Qualora scaricassimo anche dei pacchetti di materiali, li troveremo qua dentro. Passiamo al transizioni. Ah, un'altra cosa che non vi ho detto. Cliccando con il tasto destro, sopra a una transizione, dopo aver selezionato più clip, potremmo andare a utilizzare la voce applica. Questo farà sì di applicare la stessa transizione a tutte quante le nostre clip. Ok? Senza dover fare un'applicazione alla volta. Fatto ciò, andiamo a dare un'occhiata alle transizioni audio. Qui avremo quattro transizioni. Il guadagno costante, la potenza costante, la dissolvenza esponente e poi la dissolvenza logaritmica. per applicare queste transizioni che andranno a influire sull'audio e quindi non sul video, basterà trascinarle sulla nostra clip. In questo caso, non ci soffermiamo su questo perché faremo un tutorial ovviamente dedicato all'audio, però è giusto che sappiate che ci sono e funzionano esattamente come quelle che abbiamo appena visto. Possiamo aggiungere anche questi ai preferiti attraverso l'utilizzo della stellina oppure con il tasto destro e il mouse e poi l'aggiunta ai preferiti. Andiamo a vedere le proprietà delle transizioni. Quando io vado ad applicare una transizione sulla mia clip video, posso andare a modificarne la durata. Singolarmente posso fare così, selezionarla e fare clic con il tasto destro e poi scegliere durata. Qui andrò ad inserire la durata della transizione. Ok? In ore, minuti, secondi e frazioni di secondo. Qua in questo caso è impostata su 3 secondi, ma noi possiamo farla durare 5 secondi e poi fare clic su salva. Vedete che si allunga. Ok? Se noi lasciamo il mouse sulla transizione, ci verrà detto che tipo di transizione è e la durata della transizione. Se invece noi vogliamo che tutte le transizioni abbiano la stessa durata di default, possiamo lavorare andando in alto a sinistra nel menu di Filmora, cliccando su Preferenze, andando su Modifica e poi utilizzare questo menu per impostare la durata di default delle transizioni da 3 secondi a 5, ma possiamo anche impostare il valore in fotogrammi. Vi consiglio di utilizzare i secondi fondamentalmente. E poi fare clic su Applica. Questo è tutto riguardo le transizioni. Poi trovate un altro video sul mio canale che è uscito l'altro giorno dove vi parlo delle tre transizioni più utilizzate nel mondo dei video. E in più ovviamente ho incluso anche qualcuno di questi concetti qui perché non tutti guardano questi video e viceversa. Ok, il video di oggi è finito qui. Come vi ho detto vi lascio qua il video che ho fatto sul mio canale in collaborazione con Filmora per quanto riguarda l'utilizzo delle transizioni più usate e la loro spiegazione e niente, un piccolo approfondimento. Noi ci vediamo al prossimo video. Non dimenticatevi di commentare qua sotto e lasciare un mi piace per supportare il canale. A presto!